la scuola del cappellino non tradisce mai e quindi controlliamo se il microfono è acceso ok è acceso bentornati al secondo video per quello che è serpentine curve in pauper e stiamo giocando un mazzo fastidioso quindi siamo molto felici mulligan prima di iniziare a vedere come andrà questa che schifo come andrà questa partita iscrivetevi al canale e lasciate un like al video mi raccomando portatemi anche un po di fortuna se volete perché qua devo iniziare con una banda colorless che non è che mi serva tantissimo nella mano però ne possiamo fare augurio volas di secondo contro questo simpatico signore che gioca si cioè proprio non peschiamo noi da adesso adesso vedrai che gioco colorless in pauper solo per dare value a queste simpaticissime ashvarens cosa mi farai di forte non niente specie cioè una specie non forte si può si può scegliere cacchio underworld rage hound quindi quando me la fa doshies si non mi fa un pezzo rapido perché se no l'avrebbe fatto preco questa è una regola del magic se avete pezzi rapidi pre combat quasi sempre e niente ciclo per isola stappo pesco faccio isola faccio augurio di bolas che dice però salve le auguro tutto il bene che le voglio ok buttiamo giù tre terre pieno qua ve lo dico un cazzo che non dico due terre un altro augure come dicevamo nella deck tech del video precedente auguri of bolas in questo mazzo non mi sa mai ma vattene a fa vabbè lasciamo perdere auguri of bolas simpaticissimo pezzo di cane ovvero pezzo di cane tritone wizard non wizard inteso uo tc che però me lo fai missare quindi un pochino anche te sei strozzo vabbè lasciamo perdere questo discorso aprirebbe delle parentesi non felici io paro te lo dico io paro paro di brutto proprio portantissimo giuro parca troia mi devo parlare se non paro paro dopo è inutile parlare sul double strike mi chiesti adesso fa più 3 più 2 più 2 a fire blast a si gioca fire blast molto bene morivo uguale prendevo 12 139 simbolico uguale spaccato preciso quindi va bene non mi sento in colpa con me stesso sono stato sicuramente un ottimo giocatore anche a non parare allora mettiamo le idroidi spell aggiuntivi metto una breath weapon perché in teoria vai a togliergli tutti i pezzi che vorresti anche i le relic of progenitus tagliamo una curva serpentina e poi credo di voler tagliare per quanto non mi piacciono i frantic credo proprio di tagliare i counter spell sopra i frantic ma i frantic no vabbè si devo tagliare però il problema è che qua devo tagliarle tutte se ne taglio una se lascio altre due frantic e tolgo due brainstorm fa schifo giusto fa schifo e quindi rimettiamo un counter spell perché serpentine curve mi sembra lenta forse ci sta togliere anche fling per lasciare l'ultima serpentine o un counter spero aggiuntivo perché tanto difficile vincere di combo ma lo scopriremo la prossima partita va bene equip ho visto mani peggiori tipo quella di prima vediamo sul play terra neve tappata abbiamo tutti i due colori di secondo breath weapon breath weapon non so quale sia la pronuncia corretta io lo dico soltanto un po' più impostato così sembra che lo so ma in realtà il cut eh no e vai pure tocca a te terra pezzo fortissimo io poi di secondo ti giuro che nel mio prova a tirarti uno scred di sopra proprio come se non ci fosse un domani zi poi vedi te vai abbiamo un idroblast per tutto ciò che è in pila perché giocando lui a posto il blessing preferirei non morire da proprio a posto il blessing quindi te beccatela vai pure tocca a me qua ci creeremo sta terra per blu credo tanto un rosso ci basta serpentine curve qua pure piccola ci potrebbe andare bene prendo lui per rifarmi un po' la mano con i removal tanto poi abbiamo già un altro disperi in mano stare troppo dietro si muore preferirei avere qualche spell che gli si uuuu uuuu quanto deve esigliarsi? tre tre andiamo di questo e prendo un altro pezzi del puzzle e passo tocca te traderemo un nostro augurio di bolas con un suo cane che non può rifare per un qualche turno credo quindi va bene poi si ha dei tre cioè si ha delle mutageniche delle blessing da fare ok non ce l'ha ok perfetto perfetto festival crush che però sta sopra breath weapon come lo dico eh pazzesco però in teoria non sta sotto il resto dei nostri move quindi noi non vogliamo mettere al cesso questo vogliamo spararti sto coso tocca a te non attacco vai che mi racconti simpatico amico carro che mi fai un altro pezzo mi hai un po' rotti i coglioni se posso dire però ce lo teniamo tra di noi e allora io sai che ti dico te l'ho volto cancella te l'ho volto nel mio perchè ho paura perchè ho paura che poi dopo io ci muoia da un roba tipo posto il blessing più più due più due più porca misera porca misera hai rotto il cazzo però questo sta sotto breath weapon oh zio cioè puoi pescare anche per un turno un bolt invece di una bestia secondo me non si offende nessuno e invece no ok bella sta posto il blessing mi piace un casino oh te le ho fatte tutte le bestie allora se io pesco una terra magari faccio una serpentine curve che sta sopra il suo cane e siamo a posto minchia ma veramente va bene e zichette devo da di terra serpentine curve ho un 9-9 tu hai un ottimo 3-1 vai pure tocca a te e che cazzo paro te lo giuro si lui imperterrito comunque cioè proprio sono duro crash through electric electric perché pensavo si fate tenerone lui va deve attaccare per forza quindi insomma ah pezzo rapido post combat visto? questo è un raro caso di cazzo mi fa il pezzo rapido si attacco quindi faccio post combat ma facciamo lui che mi prendo un'altra serpentine curve qua va bene tutto to becca 9 che due turni sei morto hai zero carte in mano quindi zi io sto a 19 la va d'arte ne abbiamo manco uno vai dopo te ne faccio un altro che è più di un 99 quindi insomma non blocco potevo bloccare però tanto insomma va bene si sapo pesco grazie oh 9 no ancora non lo faccio dopo lo scredo sul blocco to vai pure tocca a te guarda ho vinto ok perfetto quanto mi piace quando capiscono che hanno vinto che ho vinto cos'è questa figurina qua il festival crash no blim comedic genius treasure ah il treasure è perché è della treasure chest ok allora dicevamo che fling può uscire mettiamo un altro counter spell non ci vedo niente di male sicuramente non metto l'epiro blast raga qua proprio non ci piove sono scarso come una pigna ma l'epiro blast non ce le andiamo a mettere su ragazzo mio però il problema è che ora parte lui quindi io devo vedere una fila di removal incredibile però potenzialmente noi ne abbiamo 10 a costo 1 insomma lui ha 10 vesti a costo 1 e 2 insomma mi sento un po' così no ci dovrebbe stare allora simbac live one abbiamo doppio screzzi e bolt keep monastri faccio veloce così non lo vedi monastri va bene facciamo terra bolt terra bolt e lui fa più 2 più 2 se lo fa fuori combat guarda ti dico mi va anche bene 4 carte in mano per lui ragazzi a 18 sono avanti si sono troppo avanti va bene festival crusher che credo che non possiamo uccidere adesso perchè abbiamo solo 2 permanenti neve facciamo terra minchia quanti scred eh pazzeschi fuori 1 vai pure tocca a te festival crusher è cattivo nel senso che se fa dei turni con manamorfosi festival crusher diventa incazzatissimo qualcosa se qua riusciamo a pescare un ciclo landa gli sacco 2 pezzi non male si mmm prego tocca a te ma perchè occhia trovo 2 pezzi fatta terra dopo eh vabbè devo perderla questa raga ho sbagliato ho sbagliato meno merito meno merito ci sto è giusto così deve vincere lui ggvp per lui imbecille io eh porca eva ragazzi come si fanno a fare queste cappellate non ne ho idea cioè si l'ho appena fatto sono veramente un babbo cioè non la perdevo mai questa partita e vai adesso lui mi fa lava dart sei cinque quattro questo sono quattro sono morto porca eva ragazzi che cretino va bene si hai vinto hai vinto cioè hai vinto comunque ma te la concedo io porca eva vabbè vabbè dai da quelle parti fateci un salto ehm era un pptq per so adesso non so più come si chiamano le 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 sana fanan va bene quella roba che l'è e cosa è successo io stavo giocando contro trono giochiamo martellone ho perso g1 con circostanze proprio che nell'astronomia capitano una volta ogni 7 8 mila anni quindi vabbè ci sta giochiamo g2 vinco g2 giochiamo g3 a un certo punto io ho questa situazione di board tutto quello che c'è di il resto non mi interessa quello che c'è è questo sul mio nella mia mano ho una saga che sta per andare che va a 3 quindi ho il trigger in pila un ink mod nexus e una fontana santificata una terra col bianco e ho in mano un proteggino il mio oppo giocava trono quindi non aveva verde quindi io mi aspettavo che avesse un warping way quindi ho fatto io animo prendendo mana risposta al sacrificio di urza saga in maniera tale da poter animare le ink mod nexus e quando porto martello poi l'attacco sopra lui fa warping way quando targhetti con il martello le ink mod nexus io faccio proteggino che è black meat skill che avevo in mano e lui fa secondo warping way e lì ho perso la partita perchè potevo vincere questa partita? perchè se avessi fatto una mossa che ho fatto 100.000 volte una mossa che ho fatto 100.000 volte ovvero proteggo la terra in maniera tale che abbia ex proof e poi l'animo e avrà sarà un permanente con ex proof cacchio non perdevo mai ma mai quella partita no? invece mi sentivo talmente tanto avanti talmente tanto sicuro talmente sicuro talmente sicuro di vincere che ho detto vabbè vai tra chi se ne frega non posso mai perdere ecco esattamente come è successo adesso tre permanenti neve un pezzo per fargli un bolt sicuramente abbiamo vinto è la stessa roba bisogna sempre concentrarsi sui giocati e non fare come me che faccio il cazzone perchè sennò poi perdete like me poco fa cioè se avessi pescato due danni a tutto sarei stato proprio ultra mega iper schiappato in una maniera in una maniera incredibile mai vista mi sarebbe dispiaciuto eh giuro non l'avrei concessa perchè il gioco del magic è anche schiappare tipo sempre cioè però questo è un classico esempio di non sentitevi troppo sicuri perchè poi fate delle cappellatone gigantesche lui intanto non trova la seconda randa trova la seconda randa non so che pezzo counteragli contro ciclini sono un po' scarso nel matchup devo ammettere cioè proprio impreparato vado a prendere mo mo isola mo isola famosissima mo isola facciamo volatile fjord passo comunque credo che red the queens non sia un matchup impossibile anzi posso dire anzi ok abbiamo sempre il nostro simpatico counter spell si cicla landa basica questa è una bella mossa la faccio anch'io di solito e boh io credo di doverli counterare tipo song of the damned quelle robe lì suppongo eh si counter spell facciamo lui augurio salve sono un augurio di bolas prendo un dispel prego tocca a te però è che i nostri removal non fanno proprio schifo nel senso che possiamo uccidergli il pezzo che pezzi gioca gioca il pezzo rosso che spara il drannit che si giocava anche in standard non ricordo però poi non è che ne sappia tanti 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 altri io mettiamola così devo leggere devo leggere attentamente e accuratamente tutte le carte che farà il mio avversario cacchio posso dire cacchio? ho detto cacchio porca la putt vabbè si posso dire cacchio direi che va bene aia allora eccolo qua drannistinger grazie che l'ha riciclato così ho capito come si chiamava si di nuovo allora non si può uccidere purtroppo di street breakner ciclate 3 allora intanto che siamo qui ad aspettare che faccia qualcosa non stroppo ok questo l'hai fatto ah se fare i pin the grave io devo counterargli il ritone gigante più che questo perchè questa è una certa cazzo questi sono tanti mano però porca la putt va bene questo devo counterargli dobbiamo fare i pin the grave e la madone 6 va bene devo aspettare song of the damned però è che comunque ho il counter forse devo counterargli prima no perchè tanto song costa uno e avevo un counter in mano ok no va bene mmm devo counterargli l'omino questo devo counterargli devo fare counter con dispel e omino eh ma tantomeno poi cicla tutto in risposta vabbè basso basso boh vediamo cosa cosa capita ascolta si 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 non credo di essere vivissimo però riciclare 15 cioè che fastidio questa vita quando giochi contro cycle stone che è un mazzo che in realtà non mi dispiace da come concetto perchè è un mazzo di quelli che tu guardi dopo e fai si 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 ho vinto da nulla quindi ci sta si ha 5 carte in mano 4 se fa un altro di pin the grave chiaramente ha vinto no ok si hai rotto il cazzo pesca le due terre in fila si si 3 carte in mano per te va bene va bene abbiamo perso ok devo counterargli l'omino però anche poi faceva ripping into un altro lotto spetal e quindi allora sicuramente doppia reliquia del progenito un altro dispel perchè mi sembra una buona idea averle ok ok lasciamo la nostra combo secondo me possiamo togliere i bolt scusate mi può togliere gli scred senza troppi problemi e poi non è che lascio uno scred fa schifo cosa metto in aggiunta le piroblast perchè lui può avere dei dispel tipo secondo me si è una cazzata è una cazzata mi stai a dir che è una cazzata io ci provo se è una cazzata perdo lo accetto però io suppongo senza andare a guardare su mtg goldfish che secondo me è comunque un'enciclopedia di cacchiate cosa lui ha nel mazzo io provo a tenere questa mano con mono dispel e piroblast e soprattutto piaces of the puzzle ma perchè non abbiamo la nostra reliquia del progenito anche qua la sarebbe molto interessante va bene pesco augurio di bolas salve ma lo faccio che tanto siamo ok e prendo fran no quanto odio quando succede questa cosa quanto odio tantissimo una roba incredibile proprio un odio sta quasi sul cazzo bene vai tra l'altro lui giocherà tipo undici terre cioè una roba alla elfi dei tempi d'oro si ok questo open di dispel che non si sa mai doppio frantic molto bello vai peccato non avere ninja di side cazzo sarebbero forti ninja di side no non è vero sarebbero cagare però si non posso mica dirti di no e quindi ti dico di si anche qua end step dobbiamo pescare un rosso possibilmente mazzo non è un rosso o counter spell e dispel credo di passare sul suo passo alla peggio fare una frantic che perché sennò vado in discard comunque quindi non è vero se pesco terra e spell non vado in discard però comunque sto indietro sarà giusto? sarà sbagliato? sarà vero? va bene così ok secondo si facciamo un altro frantoio se me lo fai fare posso fare un altro frantoio? grazie trova lui più grande di me cosa inquietante farei frantoio e comunque non trovo un cazzo se non un altro frantoio stappo pesco qua passo non ho proprio urgenza di fare le mie spell credo di togliere breath weapon che è un'altra di quelle carte che dovevo togliere non l'ho tolto ma non avevo idea di che cacchio andare a puntare allora curva perché tanto non la farò a breve quindi vai che poi curva in italiano non so esattamente il nome di quella roba si si ecco nel momento in cui ho due neri un pochino sono più preoccupato devo ammettere frantoio into peschino e togliamo via tutto quello che non ci serve tipo questo ok secondo centoventisettesimo dispel molto carico allora terra neve reliquia del progezio scarterò scarterò un'altra curva chiaramente lui pensa ok non se l'aspettava perché giustamente giocando frantic inventory non è proprio una carta della madonna cioè non è una combo della madonna però questo abbiamo che ci passa al convendo forse mi tolgo un pezzo del puzzle però qua no mi tolgo è perché è l'ultima curva e prima o poi vorrei dargli un clock si togliamo via un pezzo del puzzle che tanto comunque pesa uguale eh non è che siano proprio pezzi leggerissimi da giocare 2 dispel possiamo anche mangiarci questa risposta dispel se magari piro veramente non serve a una cippa di niente non lo so pesco però doppio counters per l'open anche sto turno mi piace però due riti gli sono partiti ah 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 ma basta un momento e il prossimo turno abbiamo 5 mana si 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 ok pari ping the graves che mi va anche bene non soffro particolarmente per questa cosa anche falle anche se riesce a scombare adesso con 4 carte in mano dopo tutti i counter che si è preso si un altro 2 in mano sempre zi però e cos'è l'ultima che è in mano porca puttana bravo eh indubbiamente si è tenuto le carte giuste in mano nessuno ha niente da dire forse io dovevo starmi indietro con la mia relic e lì probabilmente ho sbagliato però ragazzi miei che cazzo è porca miseria ragazzi mi ha frantumato ah non gli ho detto good luck e fan no me lo metto mamma mia doppio rituale allora ci sono partiti doppio ritone doppio rituale il song of the damned questo è male petalone che palle cioè lui ha fatto tre ritualoni tre riti due song of the damned un rito io ho pensato io ho pensato di aver canterare quelli ho sbagliato evidentemente sei carte in mano e non può poi è un altro rito perché giustamente mo li pesca tutti porca miseria ragazzi che puntata di merda questa di oggi perché il primo sbagliato cioè il primo sbagliato ho misclickato ho misplegliato qui porca miseria mi ha frantumato in due e questo video lo pubblicherò facendo la figura del pirla che cazzo devo farci va bene così sono sorpreso onestamente un po' sconcertato dalla situazione e detto questo noi ci vedremo domani grazie